Ho visto che in chat parecchi chiedevano e parlavano anche della settimana corta, che penso insomma lo stiamo facendo perché sono usciti vari report in merito in particolare oggi se non sbaglio, quindi ce l'abbiamo qui. Cosa è successo? C'è stato una delle indagini più grandi finora, più importanti, dove sono state coinvolte 61 aziende e 2.900 lavoratori in UK da giugno a dicembre 2022. Ci sono stati due mesi di preparazione, ok, con workshop, coaching, mentoring, support, ok, poi le aziende con organizzazioni in settori diversi e dimensioni diverse non dovevano fare un tipo particolare di orario lavorativo, però l'unica cosa è che la paga doveva essere mantenuta al 100% e gli impiegati dovevano avere una riduzione significativa dell'orario lavorativo, ok, questo poteva essere definito. Sono contenti gli impiegati, grazie a Cazzo, esatto, e poi ogni azienda poteva fare le policy che voleva, ok, beh però chi l'ha, ok, E qua dice è stato un successo delle 61 aziende, 56 continueranno con le 4 giorni di settimana lavorativa e 18 hanno confermato che il cambio di policy sarà permanente, ok. Allora, c'è tanta roba da fare unpack, quindi abbiamo che in Inghilterra c'è stato un esperimento pilota con n aziende che hanno scelto volontariamente oppure è stata sovvenzionata, è stata pagata, è stata pagata, qual è? Non lo so se questo è stato sovvenzionato dal, da qualcuno, qui non lo dice, quindi forse no, forse semplicemente hanno deciso di far parte a questo, Deciso volontariamente di pagare lo stesso per aver gente che lavorava meno ore, questo è quello che è successo, quindi intanto congratulazioni, mi chiedo come possa essere successo, Forse è magari stato sussidiato e non c'è scritto in questo, probabilmente, mi viene da pensare, però non lo sappiamo, quindi aziende hanno detto, vabbè invece di 40 ore lavoratene 32, Quindi ipotizziamo 8 ore al giorno, vediamo gli stessi soldi per lavorare meno ore, quindi hanno avuto un aumento del 25%, del 20-25% a tutti quanti, ai loro dipendenti. La gente è soddisfatta, grazie al cazzo, e le aziende hanno detto, ok, non torniamo indietro, restiamo così. Ora, le cose che io ci leggo sono tante, ma proprio tante. Una è che, il messaggio è che lavorare di meno fa contenti, sia i lavoratori che le aziende. Questo è una cosa ragionevolissima, nel senso che, dove sta scritto che 40 ore stiamo lavorativi, io sarei per lavora quanto vuoi e vieni pagato quanto lavori. Quindi, è vero che le aziende devono avere un po' di minimi garantiti, perché non posso avere lavoratori che lavorano un'ora al mese, è faticoso, ogni relazione ha uno startup cost, ha un costo d'attivazione, per cui non voglio gente che lavora vicino allo zero, ma da X ore a settimana, X ore al mese, io, noi, come startup, uno lavora quanto vuole e fattura quanto vuole. E' molto più lineare. Il fatto che la gente si aggancia al, ah, vedi, vogliamo la settimana di quattro giorni, ma essere pagati come cinque, è proprio un discorso fallace. Che vuol dire? Pagato come cinque, pagato come era ieri, ma da qui a vent'anni, se lavora quattro giorni, i datori di lavoro pagheranno per quattro giorni. Cioè, non è che... Sì, 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 certo, questo penso sia... Non è che significa pagato come cinque, che vuol dire? No, certo, pagato come cinque penso sia un modo per dire semplicemente... Vogliamo un aumento del 20% oggi, però poi il salario non si tocca ai prossimi vent'anni e quindi fra vent'anni viene pagato come quattro giorni. Sì, 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 certo, però diciamo che penso... Non è detto che il salario non verrà toccato, questo dipende. Diciamo che... Magari sono trent'anni che non scalano bene con l'inflazione, scalano solo con l'inflazione neanche il ceto medio in America, ad esempio in molti studi fatti o anche, credo anche in molte altre parti del mondo, ha perso potere d'acquisto negli ultimi vent'anni. Sì, ma... Può darsi che questo è un adeguamento salariale, chiamiamolo così. Sì, ma secondo me l'obiettivo principale non è tanto quello, cioè l'obiettivo è dire, ok, si può avere lo stesso livello di produttività avendo le persone che hanno quattro giorni... Poi in realtà qua hanno detto, hanno specificato... Non sono d'accordo. Quindi a quel punto poi le persone dicono, se io produco lo stesso perché dovresti pagarmi di meno? Non penso che sarà una cosa super diffusa perché già è difficile che molte aziende adottino questo tipo di sistema e... È un discorso relativo, come anche dice qui Rolandino in chat, ma se la proprietà è la stessa per chiedere lo stipendio, no, ok, vuol dire che era sbagliato lo stipendio prima. Cioè vuol dire che lo stipendio prima era 20 all'ora e adesso diventa 25, vuol dire che vali 25 all'ora. L'azienda però si confronterà con altri luoghi in cui può prendere il lavoro a 20 all'ora. È questione di mercato, forse se prima lavoravi 5 giorni, lavoravi 40 ore, guadagnavi 20 all'ora e magari ti rendi conto che a 25 l'azienda ti dà lo stesso, stavi avendo, facendo una trattativa un po' povera precedentemente. O magari l'azienda ti guarderà altre parti del mondo e dirà, aspetta però, magari in Bulgaria la gente lavora di più? Cioè è sempre questione di domanda e offerta. Sì, diciamo che poi qua qualcuno giustamente in chat sta anche dicendo ma l'aumento di produttività, il mantenimento di produttività ci può essere per chi lavora nel mondo digitale, per chi lavora, non per chi lavora in catena di montaggio. Anche lì sarà interessante da vedere. Io ho anche i miei dubbi sul fatto che questi siano effettivamente dati che poi si manterranno veri. Perché sai, c'è anche una sorta di effetto novità, per cui io l'ho vista proprio questa cosa. Adesso nell'azienda della mia ragazza stanno sperimentando questo venerdì flessibile perché in Portogallo ci sono state delle pressioni per far fare questo esperimento e questa azienda ha deciso di non farlo e quindi ha dato il contentino. Che succede? Le persone che sono state prese per fare il test di questo, fondamentalmente venerdì pomeriggio non lavori, tutti quanti dicevano, oh mi raccomando, nei servi dite che siete super contenti così lo danno a tutti, lavorate bene così lo danno a tutti. Ah, dici che anche quello lì sarebbe da misurare, certo, da quanto può darsi che l'effetto stesso abbia… Può essere un novelty effect che c'è adesso e che le persone magari dicono anche sono meno stressato perché è una cosa nuova però poi si abituano, cioè sarà da vedere secondo me anche nel lungo termine. Diventare una nuova baseline, fra cento anni erremo gente che lotta perché vuole tre giorni, ma va bene così. Sì sì, va bene così, non sono uno di quelli che pensa che ci dobbiamo fusticare a prescindere insomma. No, è che è tutto molto relativo, ogni scalino è bello brutto perché è relativo, ma poi diventerà baseline per il futuro. Qui c'è Moldi3 che dice non è detto fosse sbagliato lo stipendio prima, ganciandosi al mio discorso, magari uno si impegna di più lavorando l'altro giorno, beh fallo lo stesso quando lavori cinque giorni, impegni quattro giorni e il quinto non ci vai al lavoro, dici io ho già fatto quello che dovevo fare. Oppure lavori cinque giorni impegnandoti come ti impegnavi quattro nell'esperimento, chiedi il 25% d'aumento. Cioè per me tutti discorsi molto relativi, cioè i concetti per i principi sono, secondo me, aumenta la tua produttività oraria e poi di conseguenza aumenta quanto chiede, vai a negoziarla bene questa produttività oraria. Tu vali 70 euro l'ora, vai a negoziare 70 euro l'ora, poi vai a lavorare 4 ore, 5, 10, 20, non penso che serva che un governo intervenga, questo è il concetto. Forse sì perché magari se tutta la normativa è scritta per contratti fatti in un certo modo è complicato, però in Svizzera, ad esempio, il lavorare a percentuale è una cosa standard. Chi lavora al 100%, al 90%, all'80%, al 70%, al 60%, molti genitori, spesso ho una coppia di genitori spagnoli, la cui figlia va in classe con mia figlia, che entrambi lavorano all'80%, che sono quattro giorni, prendono uno stipendio all'80% del 100% e uno lavora lunedì e giovedì, l'altro fa martedì e venerdì, così i giorni lunedì e venerdì uno e due a casa e può guardare la figlia, mentre così non va a scuole extra. Però sono scelte, puoi negoziare, il 100% ha questa retribuzione, lavori in percentuale, guadagni in percentuale. Forse una cosa che verrà fuori è che tu puoi scegliere la percentuale, è molto interessante, mi sembra un buon metodo. Non è che puoi sceglierla, non è così bello. Sì, sì, certo, vabbè, devi contrattarla. Sono delle job offer che dicono cerchiamo lavoro al 60%, cerchiamo all'80%, oppure dicono noi cerchiamo al 100%, se tu sei disponibile al 60% ci troviamo un punto d'accordo. Però magari quello che succederà è che poi chi lavora all'80% magari non avrà l'80% della paga, ma avrà all'85%, perché comunque tu mi stai... Il netto sì, netto sì perché paghi meno tasse per ti paghi meno soldi. Anche, sì, sì, però diciamo proprio a livello concettuale è anche lordo, diciamo. Magari uno si renderà conto che più ore passi al lavoro, oltre un certo limite, più ci sono ritorni... Ritorni... come si dice diminishing ritorni in italiano? Ritorni... Ritorni che diminuiscono. Decadenti, decadenti. Volevo tornare sul punto della catena di montaggio per fare questo esempio. Adesso mi hanno detto, guarda che casino la tua libreria dietro, togli quei libri messi a caso, e ora che voglio prendere i libri per mostrarli, non stanno dietro, non ci sono più. Questo libro, Wen, di... come si chiama lui? Non conosco. Ah, Daniel Pink, di Daniel Pink, praticamente è un libro che parla del tempismo, non conosce vuol dire che non hai visto il mio video sul canale YouTube, vabbè, poi ne parliamo dopo di questa cosa che, insomma, mi sembra un po' da parte tua, non me l'aspettavo. Dove si parla dell'importanza del tempo e di come noi esseri umani magari ci comportiamo... Io ho da fare cose importanti. Ci comportiamo in un modo la mattina, il pomeriggio, la sera, e uno dei capitoli più interessanti è quello sugli ospedali. E lui dice che gli ospedali nel pomeriggio hanno... sono dei numeri veramente raccapriccianti. La percentuale di errori, di morti, di distrazioni, aumenta di percentuali assurde, perché le persone tendenzialmente sono più mattiniere, questo è un po' il punto del libro, una buona percentuale, e poi magari anche perché dopo un tot di ore di lavoro non riescono più a concentrarsi bene, quindi poi questi... anche per chi lavora in una catena di montaggio, in un lavoro come quello del dottore che magari per il 50% dei dottori è un lavoro un po' da catena di montaggio, cioè devi andare, devi fare questo, devi essere molto preciso, non ti devi dimenticare nulla, potrebbe esserci un beneficio nel lavorare un po' di meno, diminuire i turni, sappiamo che soprattutto l'industria, diciamo il mondo dei... Però stiamo facendo timing della produttività, nel senso che, ok, quindi 40 è biologicamente tanto, 32 è biologicamente... ok, 100 anni fa si lavorava 60 ore, si è tolto la domenica, si è tolto il sabato, e quindi vuol dire che meno fai più... di un'ora a settimana produci infinito, c'è a un certo punto che la curva dovrebbe rialzare, dovrebbe essere una sorta di parabola, no? Cioè la tua produttività oraria, forse a 40 ore non è così efficace, a 30 è migliore, però dopo se vai verso le 10 c'è uno che fa... Certo, anche perché poi non hai neanche il tempo di entrare nel deep work, no? Per esempio non hai neanche il tempo di prepararti, di... però penso che 40 sia un po' spostato troppo sull'asse. Secondo me invece, mo ti butto la roba e ti farà, spero che ti tocca un po', i founder di startup o gente che ha delle idee, non so, gente che va in deep work spinta, gente che scrive libri di successo, noi lavorano 40 ore o di più? Ma dipende, dipende, non lo so. Se mi dici... C'è un commento in Highlight che dice, secondo me in molti lavori corpori la gente lavora, ma si sa che lavora anche il 30% in realtà, lavora... Ma poi chiaramente l'inefficienza rimane pure se uno lavora all'80% rispetto ad adesso, cioè l'inefficienza rimarrà sempre. Magari diminuisce, quello forse sì. Però secondo me di orari di lavoro utile, ok? Questo forse è il punto. Anche chi fonda startup, ce ne sono tante, chiaramente chi fonda startup di successo è perché sa anche come lavorare, quindi questo discorso magari vale di meno. È chiaro, ma si lavora tanto. Però tanti founder magari si spendono più di 40 ore a settimana sul progetto, sul loro lavoro, però non è detto che sia positivo, non è detto che lo spendano bene. Se tu avessi infiniti soldi e il tuo sogno fosse scrivere, non lo so, pigliamo un'attività che ti potrebbe succhiare tanto tempo, no? Prendiamo che hai solito i soldi e ti piace soltanto fare dei documentari fighi o fare il MrBeast. Il mio sogno è diventare il più bravo youtuber della storia, MrBeast, i soldi ormai non sono più un problema, ne ho infiniti. Lui lavora 120 ore a settimana, ora magari non sarei sufficiente, però può darsi il punto ottimale di massima produttività, ce l'hai se lavori proprio fuori dalla cura di cui stiamo parlando. Il che vuol dire che può darsi, faccio la parola del diavolo, può darsi che in realtà il problema del ridurre ore lavorative corporate è perché ci fa schifo lavorare per qualcun altro. Quindi neanche a 30, poi diventeranno 20, poi 10, poi 5, 5 sono brutte, meglio 3, perché è proprio sbagliato il concetto. Non è lavorare per qualcun altro, secondo me, non è lavorare per qualcun altro, è proprio il tipo di lavoro che fai. Secondo me, le 120 ore di MrBeast, il fattore che ha l'impatto più grande in assoluto è il fatto che lui è ossessionato per quelle cose lì, lo vuole fare, è il sogno della sua vita, eccetera, eccetera. Per me può essere anche... È un pattern comune tra chi ha successo e essere ossessionato. Vuoi far vedere a quante clip sei arrivato? A quante clip... A quante paper clip... Eh, stiamo nel quantum computing qua, è un casino, ragazzi. Eh, niente, niente. Comunque sì, diciamo che sicuramente questa componente, cioè se noi fossimo tutti costantemente innamorati del tipo di lavoro che facciamo, magari non ci sarebbe neanche questa spinta per chiedere il tempo. È interessante. Ecco, io ripeto, secondo me questi sondaggi ancora non sono abbastanza per capire, per avere la certezza che questo sia un qualcosa di buono, però penso che sia un positivo passo in avanti e poi soprattutto penso che se non ci sarà questa settimana dei quattro giorni lavorativi ci sono comunque sempre più aziende che sono più flessibili. Cioè secondo me la flessibilità è il punto chiave perché ti rendi conto quando smetti di lavorare in ufficio che un vantaggio enorme è devo andare a fare la lavatrice, lo posso fare. Cioè io ricordo quando lavoravo nelle stazze Erasmus... Quello è la flessibilità in ogni caso, quello te lo dà anche l'essere flessibile per altri tipi. Sì, esatto, esatto. La mia paura è che queste battaglie vengono fatte per dire quelle classiche cose che ti responsabilizzano l'essere umano, cioè le aziende sono cattive, dateci più soldi per lavorare di meno e governo per favore fai qualcosa. Se questi i messaggi che passano non mi piacciono queste battaglie. Se la battaglia diventa, ma perché dobbiamo lavorare con un orario rigido di X ore? Non possiamo fare che... lavoro quanto me la sento di lavorare? Un mese voglio lavorare 20 ore a settimana, un mese voglio lavorarne 60 e vengo pagato in proporzione a quanto produco. No a quanto tempo lavoro, vengo pagato in proporzione a quanto produco e lavoro quanto mi sento di lavorare. Questo per me dovrebbe essere... sono principi in cui non c'entra un governo o un'azienda. Certo, chiaramente è difficile, anche perché poi là io sono un fan di questa, diciamo, di questo approccio, però c'è... ci sono anche tutte le intangibili, no? Quindi magari se tu... se tu fai un meeting con un collega che ti dice oh posso scambiare con te alcune idee, mi dai una mano a cosa ne pensi, tu magari l'aiuti oppure dai supporto a qualcuno lì, non stai producendo niente, però insomma... quindi poi che succede? Le persone smettono di fare queste cose perché non fa a finire sul loro... sul loro... sul loro busto vaga, è un po' difficile. Ok, sì, beh, sta al singolo dipendente capire il rientro a lungo termine, sì, però ok, ammetto che ci sono delle cose un po' più complicate di così. Però sì, sicuramente la tendenza secondo me dovrebbe essere... dovrebbe essere quella e poi vediamo, nel senso che... c'è sicuramente la tendenza a essere un po'... adesso però che succede? Che non c'è qualcuno che dice, sai che faccio? Lavoro un giorno a settimana e guadagno lo stesso. Oh, io vengo cinque lavori. Sì, sì, certo. Faccio cinque lavori. La gente lo farebbe, sì. E quanto arrivano a costare le mele, secondo te? Anche quello che vende le mele vuole guadagnare lo stesso in un giorno. Sì, 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 certo. No? Dicché è stronzo quello lì. Quindi le mele costano per cinque. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo diviso per cinque, abbiamo fatto un'inflazione statale di cinque per. Ma scusa, adesso è tutto chiaro. Scusa, le mele decubblicano il prezzo. I limoni decubblicano il prezzo. Le consulenze decubblicano il prezzo. I corsi decubblicano il prezzo. Mi sembra che sia chiaro, no? Questa è Big Luca. È Big Luca? Questa ricerca è sponsorizzata da Big Luca, ma è palese? È palese? No, vabbè. Ok. Allora facciamo, torniamo alla lira così moltipliciamo, tutto per duemila moltipliciamo. No, comunque sì, diciamo che secondo me adesso c'è effettivamente uno sbilanciamento perché ci sono ricerche su ricerche che dimostrano che otto ore al giorno la gente non riesce a concentrarsi. Per i tipi di lavoro che facciamo e il tipo di vita che viviamo aumenta sempre di più tantissimi problemi di stress legati al lavoro che poi ti rendono e ti incapacitano anche nel lavorare in maniera ottimale. Però sì, diciamo che c'è sicuramente un limite. Quel limite può essere 25, 30, 35 ore. Io sono anche dell'idea personalmente che... Cioè a me non piacerebbe tanto lavorare quattro giorni a settimana. Io preferisco lavorare magari meno ore al giorno o sei giorni, per dire. E' una cosa che purtroppo non è incompatibile con molte aziende. Oddio, volendo lo potrei pure fare. Però non è molto comune, diciamo, però io sono un po' di quella filosofia lì, per esempio. Quindi ognuno poi è diverso. Per me è proprio il discorso di magari spendere troppe ore al giorno sulla cosa, poi a un certo punto non rendo più come rendevo prima. Però non mi dispiace invece avere sprazzi di lavoro durante tutto quanto alla settimana. Poi non sei da burst, tipo 12 ore consecutive una volta. Io una volta quando l'orario era più rigido, il mondo del lavoro era molto più rigido, avrei preferito fare quattro giorni da dieci ore che cinque da otto. Sì, mi è capitato però principalmente in ufficio. Quattro giorni da dieci ore, eh? In ufficio, sì. E poi un weekend da tre giorni. Avrei preferito, perché mi faceva meno male il contact switch, no? Tipo andare più giorni, lavorare meno ore ogni giorno, però quel giorno lì era ostruito. C'era una bellissima metafora di un tizio anni fa, che ha lasciato forse Google, che parlava del fatto che il lavoro era come se tu hai sempre dei macigni nel calendario, non riesci mai a mettere spazio di n giorni consecutivi per lasciarsi con l'idea di Nasca in testa. Quindi avrei preferito lavorare, non so, due giorni, tipo 40 ore consecutive, dalla sera, non so, tutto il weekend, dal venerdì sera alla domenica mattina, e poi dopo cinque giorni senza lavorare. Probabilmente la produttività non è risentuta. Poi secondo me anche, diciamo, scrivere codice è diverso perché lì il cambio di contesto pesa di più, cioè deve ricordarti, ok, a che punto ero, quali sono i parametri che devo tenere a mente, non l'ho mai programmato in vita mia, però immagino che sia questo, quali sono i programmi che devo tenere a mente. E anche lì ho un bilanciamento. Penso che sia molto individuale, cioè chi preferisce avere lunghi stretch e poi staccare per una settimana, e chi preferisce ogni giorno tornare sul problema. Penso che sia molto soggettivo. Facciamo questa domanda. L'ideale è che ognuno lavora quanto vuole, quando vuole e fattura quello che lavora. Domanda scientifica, per esempio tu al liceo andavi a scuola il sabato oppure no? Chissà che non me lo ricordo. Eh vedi, io andavo, secondo me è questo, secondo me è tipo, ah niente, allora niente, la teoria è smontata subito. No, sai che non me lo ricordo, cavolo, qualcuno me lo può ricordare, si andava a scuola il sabato? Mi sembra di sì a me, eh? Mi sembra di sì, quindi sono rimasto traumatizzato. Eh no, 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 magari tu sei rimasto traumatizzato, io invece mi sono abituato, vedete? Forse no, non me lo ricordo, si andava vent'anni fa, perché chi dice si andava vent'anni fa? Ah dai, sette anni fa. Alle medie, al sabato anche alle medie, mi sembra anche a me, mi sembra anche a me. Madonna, comunque anche il sabato alle medie è criminale, cioè già le medie sono tre anni inutili della vita di uno studente. No, oh ciccio, che criminale, io ho figli qua, ma questi erano sempre a casa, stanno quando cazzo ci vanno a scuola. Ma pure la domenica non è a scuola, ma pure a ferragosto. Fai una petizione, facciamo 30 ore di lavoro a settimana e 60 ore di scuola a settimana invece. Esatto, esatto. Fai una Grazie.